E allora siamo nello studio di radioimmagine, dove c'è un live però fuori onda in questo momento di Marco Lorusso il quale continua a parlare con tutti, naturalmente non si accorge che noi stiamo registrando, ma la cosa non ci interessa siamo appena usciti dalla diretta, Marco Lorusso, allora rum, sigari, cioccolato, perché tante volte sei stato a Cuba? Ma anche, poi perché noi siamo deviziosi, si piace fumare, mangiare bene, tutte queste cose qua Sì, diciamo che questi sono i doni di Natale arrivati da Cuba Allora, vabbè, noi abbiamo aperto un po' scherzosamente, ma d'altronde Marco Lorusso è un artista al quale piace essere artista perché lo fa anche divertire, è così, no? È vero, assolutamente Questo è il segreto del riuscire bene in tutto quello che si fa Se uno non fa un mestiere che gli piace profondamente non si diverte, io penso che non faccio musicista, sono musicista senza nessuna velleità Cioè, lo sento proprio come un'esperienza di vita E quindi il conoscere, l'essere curioso e assimilarlo per poi esprimerlo è quello che mi rende quello che sono Marco Lorusso, diventiamo seri, allora il 2015 si chiude ma è stato un grande anno Sì, è stato un anno veramente bello, tante soddisfazioni Dal punto di vista accademico, l'insegnamento al Conservatorio di Trapani, dal punto di vista artistico ci sono stati tanti viaggi, tante soddisfazioni, ho suonato veramente in tanti bellissimi posti Qual è il pubblico che ti ha sorpreso di più in senso positivo? Ma è il pubblico lituano per esempio, che è un pubblico dove tu stai lì e dici ma gli sta piacendo o no quello che sto facendo Invece alla fine loro hanno una dimensione interiore talmente profonda che se la vivono completamente Poi quando finisce il concerto queste persone che si alzano in piedi e tappavano per un quarto d'ora Tu dici, cioè, provo imbarazzo perché dici come li fermo? Allora, 2015 passato in giro per il mondo facendo tantissime cose Allora, l'anno prossimo che cosa accadrà? C'è un progetto particolare che ti ispira, che ti interessa, che non vedi l'ora di poter realizzare? Beh, diciamo che l'anteprima lanciata a Cuba è poi quello che vorrò fare il prossimo anno C'è proprio questo progetto dal titolo Made in Italy Dato che sono veramente un amante del cibo e del nostro Made in Italy e mi sta sempre più succedendo di portarlo all'estero Questa fantomatica, diciamo, come si dice, investitura di ambasciatore della cultura Che mi è arrivata così fra capo e collo ma in realtà io semplicemente quello che faccio lo porto fuori Vorrei esprimerla in maniera ancora più profonda anche con un percorso e con collaboratori Per portare avanti un progetto sulla musica italiana rivisitata in chiave moderna ed elettronica Ecco, senti, ti chiedo, puoi ripetere anche al nostro microfono quello che hai detto un attimo fa i microfoni di radioimmagine Cioè, a rappresentare l'Italia, la settimana della cultura italiana a Cuba, eravamo io e Uto Ugi Così, uno o qualsiasi No, è un grande, un grande La cosa divertente è stata che finito il concerto sono andato a salutarlo perché noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa a Bologna Gli fa, ma qua c'è tanta umidità e caldo, c'aveva un lupetto Gli ho detto, maestro, forse se te lo togli mi sa che c'hai meno caldo E vabbè, comunque, allora, abbiamo detto di questo progetto, appunto il Made in Italy Parliamo del tuo strumento invece, la fisarmonica Grazie a te possiamo dire che c'è un rilancio di questo strumento? Ma prima di me sicuramente ci sono state persone molto più odorevoli come Astor Piazzolla Che suonava uno strumento che fa parte della famiglia delle fisarmoniche che è il bandoneon Il tango, quindi tutto quello che si è generato intorno, le milonghe, eccetera, eccetera Hanno fatto sì che questo strumento diventasse un po' più popolare e modaiolo, se vogliamo Io non faccio nient'altro che usare questo strumento Piazzolla suonava soltanto la sua musica Tu invece riesci a spaziare un pochino più in là? Ma diciamo che... Non solo tango, ma molte altre cose Beh, il fatto che già io nella mia musica comunque mi scegli l'elettronica Fa sì che contamino lo strumento con quelle che sono le sonori attuali Quindi dalla chill out alla dance ad altre cose Non per questo poi è nato Rouge, no? Che Rouge non è soltanto un nickname Ma è neanche un one shot per aver fatto una produzione Ma è proprio l'idea di avere uno studio di registrazione E creare delle produzioni In cui la fisarmonica fa parte di questa serie di ingredienti Per fare musica a 360 gradi Per concludere, tu sei originario di Sermoneta Quindi questa è la tua terra C'è qualcosa di particolare che ti piacerebbe fare sulla tua terra? Ma ci sono tante cose Sicuramente ho iniziato a fare uno studio su quelli che sono state Dei passaggi di personaggi di un certo livello Tipo Leonardo da Vinci E c'è una cosa che mi fomenta nella testa da un bel po' E sto cercando soltanto le persone giuste con le quali confrontarmi Perché non sono uno storico, sono un musicologo E vorrei approfondire questa cosa per cercare di valorizzare anche di più la nostra terra Perché poi, detto fra noi, questo veramente per concludere Che quando ti trovi all'estero Ti rendi conto che la gente conosce Roma e conosce Napoli Ma San Felice, Ponza Io mi ritrovo la sera in hotel O con una bottiglia di rumo ovviamente A dire Ma guarda che non esiste solo Napoli e Roma Con tutto il rispetto Ma esiste anche San Felice, Ponza, Sperlonga Ci sono talmente tanti bei posti nel nostro agropontino Che però per farli conoscere al grande pubblico Non basta semplicemente lo spot in fiera del turismo Che c'è bisogno proprio mettersi là E creare una politica di un certo tipo Auguri, buon 2016 e linea radimagine Grazie, grazie a tutti Auguri a tutti voi Grazie